Passiamo a un videogioco, un videogioco molto famoso, uno dei primi a uscire per PlayStation 4. Lui è Pierfranco e interpreta il cacciatore da Bloodborne. Un applauso! Siano maledetti i vostri! Siano maledetti i vostri figli e i figli di i vostri figli per sempre! Siano maledetti i vostri figli e i vostri figli e i vostri figli. Siano maledetti i vostri figli e i vostri figli. Grazie!